Un viaggio su un treno storico è anche un'esperienza emozionale. Salire su un convoio di quel tipo offre infatti la possibilità di volgere lo sguardo al passato, ai tempi in cui la ferrovia era una modalità di trasporto innovativa, quasi pioneristica. E probabilmente questa è la ragione del successo, che si rinnova ad ogni viaggio, del treno storico lungo i binari della Transiberiana d'Italia. Ieri la prima corsa, ma forse il termine è un po' eccessivo, del 2018 appena iniziato. Da tempo tutti esauriti i biglietti, ma non è una novità. Erano 450 i viaggiatori su una banchina della stazione di Sernia che già ben prima delle 9 del mattino, orario della partenza, attendevano di salire sulle vetuste e suggestive carrozze. Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Lombardia e naturalmente Molise, la provenienza dei turisti. Sul treno anche due coppie di viaggiatori giunti addirittura dall'Austria. La partenza, come detto, nel capoluogo Pentro, la destinazione di giornata, Pettorano sul Gizio. La scelta dell'approdo nel caratteristico paesino arroccato sui monti dell'Appennino abruzzese, anche legata alla 59esima edizione della Sagra della Polenta, lì in corso di svolgimento. Insomma, un viaggio alla riscoperta di suggestioni del passato, ma anche dei sapori di una tradizione antica dei luoghi toccati dalla Transiberiana d'Italia. A proposito, tappe intermedie a Carpinone, Carovilli, Castel di Sangro e Palena. Qui i turisti, accolti dal personale del Parco della Maiella e dell'Associazione Palenium Turismo, hanno visitato un caratteristico mercatino con prodotti rigorosamente locali. Il rientro ad Isernia poco dopo le 20, in una atmosfera piacevole e gioviale per i tanti turisti che hanno vissuto un'esperienza a suo modo unica e da serbare nella memoria. Insomma, per gli organizzatori e gli amici dell'Associazione Le Rotaie, un'altra riuscitissima iniziativa tesa alla valorizzazione del patrimonio ferroviario locale. E chi sa che il loro sogno possa un giorno avverarsi, rivedere la ferrovia sul Mona Carpinone risplendere. Ieri, per certi versi, è accaduto.